salve a tutti ragazzi io sono squall e bentornati a stardio valley allora ragazzi come potete vedere siamo praticamente arrivati all'ultimo giorno di estate e stasera ci sarà l'evento l'evento che chiuderà praticamente la stagione estiva moriranno naturalmente tutte le nostre culture tranne le pannocchie le pannocchie resisteranno e dobbiamo naturalmente andare a comprare tutte le altre culture oggi abbiamo un bel po da fare come vedete ci dice che stasera alle 10 avrà luogo questo evento orario è bellissimo quindi va bene così alle 10 dobbiamo andare spiaggia abbiamo praticamente tutta la giornata queste qua sono inutili annaffiarle ancora quindi ci possiamo annaffiare queste ce le annaffiamo insieme inutile che me le annaffio io ce le annaffiamo insieme tanto sono solamente queste qua e qualcosa dall'altro lato e niente abbiamo un bel po di roba da consegnare volevo anche andare da robin dobbiamo andare nel museo un bel po di roba da fare c'è poi giustamente appena arriva la stagione notturnale dobbiamo andare a piantare tutte le altre culture quindi un bel po da fare ci sta dai abbiamo abbiamo voglia oggi veramente c'è tanta roba tanta roba allora raccogliamoci questo pomodoro ripeto inutile annaffiare per tirando domani cerca tutto tranne questa pannocchia qua che magari la annaffiamo ma non so se la lascerò la probabilmente poi la toglierò perché farò le nuove colture quindi questi possiamo annaffiare qua ci raccogliamo il lucolo e non lo annaffierò più naturalmente adesso vi faccio vedere anche i pulcini che sono finalmente diventati polli e cosa ho messo all'interno allora qua ci raccogliamo questi pugni che ci andiamo a vendere e andiamo a salutare i polli molto importante ragazzi andare dei polli praticamente giornalmente è tra virgolette parlarci in modo da aumentare i punti cuore come vedete adesso mezzo cuore più sono alti punti cuore con i vostri animali migliori saranno le cose che vi andranno a rilasciare quindi momentaneamente fanno le uova così che sono piccoline ma poi più in là faranno le uova quelle più grandi e di qualità maggiore le uova vi consiglio sempre di metterle qua meno che vi servono per qualcosa la maionese poi l'andrete a vendere a un prezzo maggiore rispetto a tutto il resto e questi sono i polli si mangiano l'erbetta che ci stai in giro e nulla di particolare diciamo un bonus un bonus allora vi faccio vedere anche le statistiche prende sono arrivato a livello 10 e ho sbloccato questo dove praticamente i valori dei beni artigianali quindi sta dicendo vino formaggio olio qualsiasi cosa che si ricava anche dagli animali a un valore del 40 per cento in più siccome noi faremo tantissimi soldi poi con i nini va veramente bene questa cosa e come vi dicevo io anche con l'olio che andremo a fare quando avremo i maiali quindi ottimo ottimo allora vendiamo tutto perché tutta questa roba non ci serve posiamo questo quarzo e ci dobbiamo prendere cinque lingotti di ferro e cento pezzi di legno duro perché dobbiamo andare da robin per costruire una cosa adesso devo anche trovargli un attimino lo spazio vediamo dove lo possiamo fare non lo potrei mettere di qualche da queste parti qua forse mi sa di sì forse qua lo riesco a fare entrare se no da quest'altro lato magari proprio qua di vicino alla casa si ci può stare vediamo un attimino allora questo qua intanto lo tolgo perché se non mi fa crescere gli alberi qua gli alberi sono quasi tutti fatti come vedete questa fila è completa invece di questa manca solamente questo e qua mancano gli ultimi due adesso poi andiamo a piazzare il mio estrattore qua che praticamente è cresciuto durante la notte quest'albero a breve penso che sarà completo tutto quanto allora andiamo da robin che c'è a terra andiamo da robin e andiamo a costruire farci costruire questa cosa robin dovrebbe essere già aperta sono 10 dopodiché torniamo indietro potevo farlo direttamente prima però ci ho pensato dobbiamo prendere le cose da andare a consegnare quindi dobbiamo obbligatoriamente poi tornare indietro intanto gli faccio anche il regalo a robin non glielo faccio a maro perché lei non piace questo non so se gli piace lui effettivamente se gli piace lui gli do lui piace lui ok lui gli piace va bene dai così aumentiamo un pochettino i punti con tutti e andiamo a costruire un edificio molto importante che ci permetterà di spostarci molto più velocemente la stalla quindi andiamo a costruire la stalla vediamo dove la possiamo fare che se la riesca a piazzare qua qua mi dispiace più di tanto sarete mi va benissimo qua che ce l'ho proprio vicino ingresso è un attimo lo prendo poi mi muovo ok avvierà la costruzione di una stalla e questa è una cosa buona allora adesso possiamo tornare indietro a prendere tutte le cose che dobbiamo consegnare e le andiamo a consegnare ovviamente un bel po di roba dobbiamo andare sia nel museo dobbiamo andare anche da cliente quindi adesso andiamo come prima cosa da cliente perché poi chiude e poi consegniamo tutto e penso che già sia quasi ora per poter andare all'evento che c'è sulla spiaggia allora vediamo qua che andando il tolgo un pochettino di cose dall'inventario no qua sono i semi mi tolgo questi due che sono poi ci confondiamo e allora come detto a noi ci serve di qua un lingotto la maionese questo questo qua ci serve questo 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 ci serve tutto praticamente e questo lo dobbiamo consegnare per una quest il peperoncino adesso lo andiamo a consegnare pure e il ventaglio ok abbiamo veramente un bel po di roba allora come prima cosa come detto voglio andare da cliente però effettivamente visto che sono in strada quasi quasi andrei a consegnare prima il peperoncino a giorgio che comunque qua vicino è proprio passando di quale praticamente lui sta sempre a casa quindi non dovrei avere difficoltà nel intracciarlo no dovrebbe stare tipo qua da qualche parte non mi dite che non c'è proprio oggi in giro giorgio ok va bene appena lo trovo glielo consegno sta sempre rinanzato in casa oggi dove consegnare il peperoncino non c'è bene bene allora come detto andiamo da clint e ci andiamo ad aprire tutti i geodi che abbiamo allora noi abbiamo questo qua di magma due diridio che è fantastico ottimo trovare diridio così abbiamo due di questi questo non so se l'abbiamo consegnato mi sembra di no un pezzettino di ferro che mi va bene pure cerchiamo anche questi cinque ora io non mi ricordo le cose che abbiamo già consegnato e quelle che non abbiamo consegnato lo vedremo e poi il resto me ne vado a vendere così me ne tolgo dall'inventario dallo zaino dalle ceste vediamo un attimino e infine l'omni geode che è praticamente potrebbe contenere di tutto un fire quartz che già ho ottenuto però forse lo possiamo consegnare quindi ci sta ci sta così magari lo mettiamo anche qua dentro nel nel museo non mi ricordo se ho consegnato a questo punto anche il quarzo perché anche il quarzo lui dovrebbe accettare nel caso poi glielo portiamo la prossima volta e allora no il quarzo glielo avevo portate là quindi mettiamo il fire quartz qui e iniziamo a posizionare un pochettino di gemme ok io già avevo portato qualcosa però non me lo ricordavo quindi pazienza mettiamo quest'altro qua quest'altro qua e questo non lo so magari lo piazzo qua e questa è la quarta quindi 1 2 3 4 così lo mettiamo in ordine a meno ste pergamene e abbiamo ottenuto qualche reward sono degli oggetti per la casa nulla di particolare però per ottenere la chiave che possiede lui dobbiamo fare veramente tante donazioni al museo prima o poi ci sbloccherà la chiave delle fogne allora andiamo levati andiamo a consegnare tutto quello che c'è da consegnare per i bundle io quasi quasi rivedo se è rispondato giorgia a casa magari tanto siamo sempre qua sei uscita magari c'è giorgia adesso c'è nessuno e lascia nel televisore acceso così tanto per sprecare luce è nulla nulla ok prima o poi lo beccherò per strada non so effettivamente dov'è forse è qua da pierre forse da domenica è da pierre intanto c'è lei però a lei che cosa gli regalo non ho nulla da regalargli non gli piace nulla di quello che ho no non è nemmeno qua quindi no niente non ho idea di dove dove si è giorgia attualmente vabbè prima o poi lo beccherò in giro gli consegnerò quel peperoncino e ci prenderemo la ricompensa volevo farlo con voi ma se non lo vedo fa nulla allora qua iniziamo a consegnare un pochettino il tutto qua c'è qualcosa da consegnare quindi partiamo da qua e gli rilasciamo questo a breve potremmo anche mettere il vino però per il momento non ce l'ho quindi bisogna attendere qua possiamo completare il pacchetto fabbro perché ho finalmente fatto il lingotto di oro non mi ricordo che cosa ci da però qua sono ricompenso un pochettino più utili vabbè una fornace non è nulla di che ci accontentiamo ci accontentiamo e poi andiamo a consegnare il resto ora non mi ricordo dove stanno tutte le cose che devo consegnare quindi abbiate pazienza se mi metto un attimino a girare qua possiamo consegnare qualcosa mi sembrerebbe di no momentaneamente no qua non c'è nulla da consegnare pacchetto animali nel pacchetto animali non abbiamo nulla da consegnare eppure mi ricordavo che la maionese serviva la maionese serviva a qualcosa credo qua non c'è nulla e qua non c'è nulla nemmeno quindi credo che sia tutto nella bacheca quello dove possiamo consegnare andiamo un attimino qua nella bacheca e vediamo vediamo che cosa possiamo lasciare perché c'era un bel po' di roba qua non c'è nulla però questo effettivamente ce lo dovrei avere quello là sopra quindi adesso vado a vedere qua non c'è nulla qua abbiamo detto che non c'è nient'altro ah qua c'era l'acqua marina ok l'acqua marina gliela possiamo consegnare ok quindi qua me ne mancano solamente due il fire qua c'era là sotto giusto e quello è nella pesca ok allora fatemi consegnare questo nella pesca che è qua e lo possiamo completare e dovevamo andare al museo e ce lo siamo dimenticati quindi adesso andiamo al museo e consegniamo le cose al museo oh la massa per granchi è buona tanto il tempo per andare al museo ce lo dovrei avere adesso vi metto un attimino in pieno ordine in inventario nel caso allora questo lo dovremmo aver completato sì infatti ok ok quindi questo è completo e abbiamo sbloccato una cosa che vedremo domani e ci stanno anche i 5 omni geode e vi faccio vedere questo evento praticamente completando una zona spuntano tantissimi di giunimo e si presentano noi siamo in giunimo i custodi della foresta e sistemano tutto praticamente come vedete è una zona nuova adesso c'è lui qua che va a posare questo adesso vi metto davanti così si sbriga un pochettino prima e vi velocizzo un attimino la situazione vedete come ora adesso è molto più veloce e lui adesso andrà a consegnare questo coso qua dentro e poi porterà una stellina qua quando avremo tutte le stelline complete sarà effettuato praticamente tutte i bundle avremmo completato tutto di solito questi qua scappano una volta anche quando completiamo le cose invece lui adesso ci inseguirà qua dentro fin quando non usciamo perché appena usciamo si starà fermo e a fine giornata vedremo la ricompensa che ci hanno dato allora andiamo un già da Clinton non ci possiamo andare più vediamo se intanto Giorgio è tornato io ci spero che sia tornato ok Giorgio è tornato finalmente ciao Giorgio tieni il peperoncino e dammi soldi per un peperoncino mi hai dato la bellezza di 200 si ci sta noi vendiamo le cose a caro prezzo il peperoncino un singolo peperoncino proprio un peperoncino piccolino e manco uno di quelli più si 200 euro così ci sta allora qua no effettivamente no nel museo abbiamo consegnato la roba forse ho consegnato il ventaglio il ventaglio c'era scusatemi mi sto confondendo io no ok allora il ventaglio già ce l'avevamo consegnato effettivamente anche è domenica quindi potremmo andare a vedere che cosa vende il mercante quello che ci sta là sotto intanto ci andiamo a vendere tutto posizioniamo quello che possiamo posizionare allora intanto possiamo vendere questo che non ci serve questo che non ci serve questa che non ci serve a quanto pare mi ricordavo di sì invece no e vabbè gli omnicio te li metto qua poi ce li andremo ad aprire insieme la prossima volta di video lo posiamo qua dobbiamo accumulare un altro poco di video questo lo possiamo posare questi li andiamo a mettere magari dentro casa non so dove magari li piazzo qua da qualche parte sono dei blocchi sonori fanno un pochettino di rumore così una musichetta nulla di particolare fornace che vado a piazzare qua così magari riusciamo a ottenere prima i lingotti ah e c'è anche lo sacchiotto ma lo sacchiotto non so effettivamente se riesco a farlo entrare da qualche parte magari lo metto proprio qua vicino al fuoco così prende fuoco la casa e addio star di valle addio campagna prenda fuoco tutto è bene così questi qua li possiamo mettere da qualche parte nel fiume nel mare adesso vediamo però dovrei effettivamente prendermi le esche siccome già ci sono fatte le 6 e mezzo io penso che quel mercantela sia anche chiuso quindi prendiamoci tutti questi e facciamoli diventare delle esche tanto ci serviranno prima o poi le esche quindi va bene tramudiamo tutta questa carne di mostro in esca e me ne servono semplicemente 3 quindi 1, 2 e 3 li andiamo a mettere dentro la nasse in modo da riuscire a pescare tra virgolette qualcosa che in altro modo non andremo a pescare allora vediamo intanto se il mercante è aperto dopo di che andiamo a pesare queste cose aspettiamo che parta l'evento che praticamente è fra un paio di ore alla fine e poi ci sarà la parte dell'inizio stagione autunnale dove praticamente andremo ad acquistare tutti i nuovi prodotti e andremo un attimino a sistemare allora il tulipano non mi ricordo che cosa mi serve c'è il salmone non mi interessa sicuramente queste cose non mi interessano un uovo grande prima o poi me lo faranno le galline semeraro come detto già l'ho acquistato tulipano no ma era un'altra cosa quella che mi serviva quindi no non c'è nulla di particolare ciao ciao allora andiamo a posare posare a piazzare queste tre nasse queste casse per granchi da qualche parte e ci dirigiamo verso la spiaggia magari vi taglio questo pezzettino dove attendiamo e ci vediamo l'evento e poi proseguiamo con la prossima giornata piazzo magari tipo qua uno due e tre bisogna mettere le esche giornalmente ma io non lo farò lo faccio quando mi capita così di passarci e basta ok aspettiamo che si fanno le dieci e riprendiamo ok ragazzi sono quasi le dieci l'evento sta per iniziare mi avvicino un attimino di più eccoci qua e parte l'evento praticamente come sapete non possiamo noi entrare in un determinato luogo dell'evento se non si fa un certo orario qua potremmo parlare con tutti praticamente ci sono queste candele qua in mare è inutile che ve lo spiego lo andiamo a vedere direttamente l'evento praticamente è sempre un gioco di cui vi diciamo ciao Abigail e niente io direi che possiamo assaltare anche perché parlare adesso qua con tutti mi sa che non concludiamo nulla vediamo semplicemente dialoghi quindi vi faccio vedere un attimino l'evento naturalmente devo dare io il via quindi possiamo iniziare sì come se sono io il sindaco il sindaco me lo chiede a me possiamo iniziare e iniziamo e stiamo aspettando quindi facciamo partire la navetta e vediamo che cosa succede con questa candela stranissima candela torcia la lanterna non si capisce che cos'è una piccola ruota momentaneamente sembra che non succeda nulla ma come potete vedere il mare inizia a brillare ed ecco praticamente delle meduse luminose e qua inizia ad aver paura a farti il bagno perché se ti spundano queste meduse così che sono più grandi di te praticamente inizi a dire ok forse è meglio che io qua il bagno non me lo faccio perché sennò rischio di brutto vedete che non sono due o tre sono un bel po' ci sono anche quelle piccoline quelle che troviamo un po' dappertutto però quelle là sono leggermente più grandi e penso che se ti attacca una medusa di quelle finisci brutto brutto vero quindi non è tutto come potete vedere c'è anche una medusa più particolare questa oltre ad essere tossica è mortale dire a te ti tocca e muori è giusto giusto su di noi quindi evitiamo di farci tutti quanti il bagno a pellicandown perché sennò rischiamo la pelle e niente ragazzi l'evento era questo praticamente arrivano queste meduse e nulla di particolare non c'è nulla non c'è nessuna ricompensa non c'è niente di niente è veramente un evento abbastanza stupido secondo me potevano renderlo un pochettino più carino questo evento però l'hanno fatto così e lo accettiamo quindi andiamo a dormire vediamo quanto abbiamo fatto abbiamo sicuramente speso 10.000 vediamo se abbiamo ottenuto invece qualcosina in più e qua vediamo i giunimo che stanno riferando praticamente il treno ragazzi adesso noi in autunno non solo ci potremo muovere con il cavallo molto più velocemente ma se avete visto in giro questi vagoncini ci possiamo teletrasportare praticamente da una zona a un'altra e questa è una cosa fantastica ci permette di muoverci molto più velocemente per tutta pellicandown allora abbiamo ottenuto sì un bel po' di soldi io speravo di arrivare a 200.000 invece siamo a 150 50.000 e meno però ci può anche stare allora parliamo di girasoli perché giustamente anche i girasoli crescono un pochettino come le pannocchie quindi quei semi di girasoli che ho piantato crescono continuano qua giustamente il devasto totale e vi devo dire ragazzi che questa è la stagione che mi piace di più a Stardio Valley è veramente bellissima sia i colori che le cose che ci sono in giro allora questo è cresciuto qua ne restano solamente due ok gli ultimi due alberi abbiamo finito vedete è tutto molto colorato è bellissimo quindi restano queste pannocchie qua e non lo so non so manco se tenermele questi quasi quasi elimino dai sì sì elimino elimino anche girasoli elimino tutto così ci prepariamo poi per la zona nuova vediamo poi un attimino che cosa andagli a piantare io perché lo sto facendo con questo potrei fare con la falce non sprecare stamina va bene dai adesso questi che sono pochi li elimino così e poi ci andiamo a prendere magari la falce e togliamo tutto allora volevo anche farvi vedere un'altra cosa visto che ci siamo poi li organizzo io con la farm allora quale sta costruendo la stalla e questa la posso posare qua sotto possiamo andare effettivamente ad aprirci anche questi geo di oggi e vi faccio vedere un attimino il trailer come funziona qua c'è qualcosa intanto da raccogliere noi ce lo prendiamo nell'argita nulla di particolare queste cose poi le possiamo anche andare a consegnare possiamo andare alle miniere subito istandaneo fantastico bellissimo teletrasporto immediato possiamo rompere questa roccia sono venuto qua apposta così possiamo entrare in questa zona tra virgolette segreta dove c'è lui che è un nano noi adesso non capiamo nulla perché abbiamo bisogno delle pergamene che troviamo in giro quindi quando abbiamo tutte le pergamene possiamo parlare con lui e ottenere della roba momentaneamente non lo possiamo fare sono anche 8 e mezza quindi possiamo andare al paese e siamo praticamente qua da Clint fantastico specialmente perché Clint chiude presto quindi se abbiamo fretta è un attimo arrivarci qua non c'è nulla di particolare quindi aspettiamo che si fanno le 9 ormai sono quasi le 9 se ci facciamo aprire anche questi 5 omni geode vediamo che cose ci troviamo all'interno e nel caso consegniamo tutto al museo e quelle cose che abbiamo trovato e poi andiamo da Piera a comprare le cose io non mi ricordo nuovamente se abbiamo consegnato qualcosa di quello che potremmo trovare quindi andiamo al museo in ogni caso vediamo se possiamo lasciare qualcosa se no niente questo abbiamo consegnato prima quindi sicuro che questo non glielo dobbiamo consegnare ma forse qualcosa da consegnare c'è quindi vediamo sì qualcosa da consegnare ce l'abbiamo solamente questo e vabbè lo piazzo qua e basta non ci ha dato nessuna ricompensa però pazienza prima o poi ci darà la chiave dobbiamo attendere dobbiamo attendere allora andiamo a consegnare anche la nocciola e la prugna così forse completiamo un altro bundle se non sbaglio quello è la raccolta autunnale perché mi sa che mi mancavano solo queste due cose e la prugna forse serve anche a qualcos'altro mi sa nel mago se non sbaglio se non sbaglio mi serve questo bundle qua della bacheca dove c'è il mago che richiede le cose pacchetto ingantatore no non è la prugna è il melogiano però serviva da qualche altra parte no no non lo so non mi ricordo non assolutamente non mi ricordo pensavo di sì invece no sta qua sopra o sta sotto ma queste sono le culture autunnali quindi dobbiamo andare giù ok possiamo consegnare questo ah e ci manca ancora questo qua che cos'è la mora dobbiamo trovare le more quando abbiamo le more gliela consegniamo e completiamo il bundle allora noi come semi d'obbligo dobbiamo ottenere la zucca e la melanzana e poi tutto il resto lo andiamo a prendere in un altro frutto come i mirtilli però dovrebbe dare ancora di più dei mirtilli come frutto come prezzo quindi dovrebbe essere pagato un tantino di più allora noi ci serve la melanzana abbiamo comprato la zucca è la stessa cosa dei meroni quindi se ne prendiamo 9 può crescere una zucca gigante che ce ne dà di più allora di zucca ne voglio prendere 18 se i mini mice non ci interessano e dobbiamo prendere i mirtilli rossi praticamente ci sono i mirtilli e questi sono i mirtilli rossi e producono in 7 giorni e poi continuano a produrre e danno veramente un botto ragazzi tantissimo allora ci serve anche l'amaranto non mi ricordo quante ne servono quindi io ne compro magari facciamo 5 non mi ricordo esattamente quindi ne serviamo facciamo una ventina dai ok 20 avvia uva che ci servirebbe per il vino effettivamente quindi magari ne compro 10 anche di questi e poi tutto i mirtilli e anche questi ragazzi saranno una tortura da annaffiare perché ancora non ho gli irrigatori quindi vediamo se riesco a craftare questi irrigatori perché comunque come vedete ne voglio comprare tantissimi in modo da fare un casino di soldi cioè più ne compro meglio è magari arriviamo di qua 300 300 possono bastare secondo me anche perché non so se li riesco a piantare tutti quanti quindi vediamo un attimino dove metterli io adesso mi andrò a piantare naturalmente tutto e poi vi farò vedere come ho sistemato la farm e poi non so quando ci rivediamo vedrò un attimino io quando registrare nuovamente perché comunque magari aspetto questi sette giorni che crescono i frutti vediamo li raccogliamo poi insieme vediamo vediamo un attimino allora voglio vedere io per fare il irrigatore cosa mi serve e il lingotto di oro il lingotto di ferro e il quarzo e quanti ne potrei fare un bel po' li potrei fare però 5 me li voglio conservare per al maffiatoio quindi ne posso fare al massimo 5 anche perché di questi ne ho 5 e di questi ne ho 5 quindi andiamoci a fare sti 5 irrigatori così li sparmiamo un pochettino ok e la farce mi serve la farce mi serve assolutamente la farce e devo vendere questo si mi libero lo zaino vabbè questa la possiamo vendere vendiamo un pochettino di spazzatura la pietra no perché ci serve inutile che vendo anche se ho una singola pietra non la vendo e la farce la farce mi serve perché devo ripulire tutto e naturalmente dovrei anche mettere il fertilizzante quindi adesso vediamo un attimino mi ripulisco la farm questa la posso ogni togliere perché qua singola mi da fastidio mi da veramente fastidio mi ripulisco come detto la farm vedo come piazzare le cose e vi faccio vedere il tutto e allora ragazzi non mi sono dimenticato a registrarvi la parte semplicemente ho finito adesso di piantarvi il tutto quindi andiamo a dormire e vi faccio vedere un pochettino la farm come vedete praticamente già siamo arrivati al giorno 3 è stato devastante questa volta forse un bandino esagerato fortunatamente oggi piove adesso vi faccio vedere semplicemente la farm e poi ah questo è il cavallo l'ho chiamato cioco vediamo un attimino qua che cosa ci dice ok l'amaranto ok va bene dai l'accetto però ripeto io chiuderò adesso qua il video perché sono veramente stanco vi faccio vedere un attimino come ho sistemato il tutto qua ho piazzato l'amaranto qua ci sono le zucche queste sono le pannocchie che ho accorciato un attimino perché non savo più dove mettere tutti i mirtiti rossi che ho messo qua in giro forse qua gli alberi sono fatti non ancora mancano questi due qua abbiamo rimesso l'uo a posto del luppolo e qua me ne sono dimenticata una ok forse si è mangiato un corvo ma c'è lo spaventapasseri non lo so poi la rimpiazzo la rimpiazzo non è un problema e qua ho sistemato quest'altra farm adesso vedete questi bugli qua a terra praticamente andrò a piazzare questi altri rigatori così non avrò nessun problema e qua sotto ci stanno le altre cioè le ho piantate dappertutto ragazzi sono esausto non so più dove mettere le cose e anche il personaggio era esausto infatti come vedete mi sono svegliato con metà stamina comunque ragazzi io direi che per questo episodio può anche essere tutto abbiamo fatto veramente tanta roba oggi e questo periodo autunnale faremo veramente tanti tanti soldi anche perché ho intenzione di andare a comprare la stalla dove mettere i maiali quindi andremo anche a sbloccare i maiali forse vediamo spero di riuscirci prima che arrivi in inverno così magari riesco a fare un pochettino di tartufo quindi direi che può essere anche tutto così per oggi quindi ragazzi non vi preoccupate che sto girando così a vuoto il tempo passa perché a parte che piove quindi non sarebbe un problema resetterò la giornata quindi don't worry per quanto riguarda noi non so quando ci rivedremo penso che farò passare comunque un po' di giorni magari farò crescere un po' tutto il raccolto vediamo vediamo nel frattempo accumulo anche le cose da consegnare nei bundle vado in giro nelle miniere di fare un pochettino di roba va bene ragazzi dai io vi invito a iscrivervi al canale lasciare like commentare condividere il video attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi episodi e tutti gli altri video che usciranno sul canale per questo episodio ragazzi era tutto noi ci rivediamo a un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti